È possibile evitare che un mio alunno registri una mia video lezione oppure faccia uno screenshot mentre siamo online e in videochiamata? La risposta è sì e no, più che altro dipende, ni, ci sono dei distinguo. Questa è una domanda che mi viene posta da molti docenti in quest'ultimo periodo perché vista proprio l'esplosione della didattica a distanza e quindi anche delle video lezioni la preoccupazione sorge e non è ingiustificata, tant'è vero che infatti ci sono già dei primi casi di cyberbullismo perpetrati nei confronti dei professori che avvengono proprio in questo modo, ossia ragazzi che registrano una video lezione oppure pezzettini di video lezioni e poi le ripubblicano online, le ricondividono su Facebook in modo da deridere il professore. Poi in alcuni casi questi ragazzi sono stati anche individuati, in altri casi sono stati presi i provvedimenti e così via. Di fatto la preoccupazione è più che legittima. Purtroppo ahimè non esiste una risposta piacevole, ossia noi consideriamo che i tool, le piattaforme, le applicazioni che ne utilizziamo per le video lezioni sono in realtà strutturate in origine per le videoconferenze e quindi più spesso più in un ambito business in cui non è prevista la videoregistrazione salvo un comune accordo, per cui ad esempio io posso tenere un meeting con il mio team registrare in modo da appunto registrare il meeting in modo poi da poter conservare questa registrazione a uso e consumo dei miei uomini, oppure magari di chi arriverà dopo e quindi poter rimettersi un po' al passo con i meeting, oppure chi in quel momento non ha potuto partecipare al meeting per motivi di assenza. Quindi non prevedono la possibilità di bloccare uno screenshot oppure una registrazione. Esistono alcune piattaforme, ma non sono le più famose comunque, in cui se io effettuo uno screenshot e mi arriva dall'altra parte una notifica. Il problema qual è? È che come io spiego sempre, pensate un po', ai ragazzi, quando io porto i miei progetti di educazione digitale, quindi anche di cyber security contro il cyberbullismo, di nuovo pensa un po', in realtà esistono tanti altri modi per registrare un contenuto che sta comparendo, che sta scorrendo nello schermo di un cellulare, di un pc, di un computer appunto, o di un tablet, che non comprendano appunto uno screenshot o la registrazione dello schermo. Ad esempio io posso anche banalmente prendere un cellulare e di nascosto, da sotto il banco, facendo in modo da far emergere solo ed esclusivamente l'obiettivo, quindi di nascosto, opportunamente angolato, in modo che la webcam del dispositivo che sto usando in quel modo non riprenda quella parte lì, ma io da sotto comunque in qualche modo riesco a riprenderla. Questo ad esempio è un metodo classico. Perché dico classico? Perché è esattamente lo stesso metodo che usano i nostri alunni nelle lezioni in classe quando vogliono registrare le lezioni durante la classe di nascosto, da sotto il banco, da un lato del banco, e così via. Quindi, ripeto, in realtà non esiste un modo proprio sicuro al 100%. Quindi l'unico vero modo per evitare una cosa simile è la prevenzione, è prevenire. Ci sono tanti modi per non comparire in una video lezione, o addirittura per non dover essere noi a registrare una video lezione, se non ci sentiamo tanto sicuri, oppure se annusiamo un po' questo pericolo. Ognuno di voi conosce i propri ragazzi e quindi potrà valutare. Ma questo sarà poi materia di un altro mio video. Nel frattempo, se lo desiderate, potete iscrivervi al mio canale, potete commentare, anzi, possibilmente commentate, così posso anche capire che cosa vi serve veramente. Poi avete in descrizione il mio indirizzo email, se desiderate contattarmi in privato o comunque instaurare un rapporto più stretto, Ivan Ferrero 1975, chiocciolaoutlook.com, comunque trovate tutto in descrizione. E poi trovate anche il mio canale Telegram, attraverso il quale potete rimanere sempre aggiornati sugli ultimissimi contenuti che io spargo in giro per il web. Per il momento è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!